La testimonianza cristiana deve concentrarsi sull'essenziale, sull'annuncio della venuta di Dio, lo ha ribadito il Papa, incontrando una delegazione ecumenica dalla Finlandia per l'odierna festa di Sant'Enrico. Nel tempo attuale, ha detto Papa Francesco, anche il cammino ecumenico e le relazioni dei cristiani stanno attraversando significativi cambiamenti, dovuti in primo luogo al fatto che ci troviamo a professare la nostra fede nel contesto di società e culture, dove è sempre meno presente riferimento a Dio e a tutto ciò che richiama la dimensione trascendente della vita. Allora la testimonianza deve concentrarsi sull'annuncio dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo, suo figlio. Troviamo qui spazio, ha detto il Papa, per crescere nella comunione e nell'unità tra di noi, promuovendo l'ecomunismo spirituale che nasce direttamente dal comandamento dell'amore lasciato da Gesù ai suoi discepoli.